Con l'ultimo DPCM del 18 dicembre, gli italiani hanno dimostrato di saper affrontare con grande serietà e spirito di sacrificio il lockdown che limita spostamenti e assembramenti fino al 6 gennaio. La battaglia è ancora lunga, ma dal 27 dicembre scorso, giornata ufficiale del V-Day, l'Europa ha avviato con entusiasmo la più importante campagna vaccinale della storia e questo lascia ben sperare sulle possibilità di contenere il contagio da Covid-19. Il vaccino messo a punto da Pfizer e BioNTech è già in distribuzione in Italia e in Europa e a giorni dovrebbe arrivare il via libera dell'EMA anche per i vaccini di Moderna e AstraZeneca. Intanto l'Italia si è già attrezzata per distribuire 470.000 dosi di vaccino a settimana per arrivare a vaccinare almeno il 70% degli italiani entro l'autunno 2021. Eccoci qua, allora grazie intanto, grazie di essere stato anche nella prima parte insieme alla mitica Giovanna Ralli. Abbiamo sentito cosa chiede Giovanna e credo che come Giovanna Ralli tanti, tanti, tante persone e diversamente giovani, come le chiamo io, in questo momento abbiano il desiderio di vaccinarsi al più presto. Perché, Ministro? Perché è l'unica speranza, è quella di ricominciare e ritornare lentamente alla vita di prima, alla vita di tutti i giorni, alla vita della quotidianità che è una vita anche se vogliamo molto semplice, con delle cose molto semplici, un viaggio, una cena con gli amici o in casa, che però per adesso in qualche maniera ci viene impedita già da molti mesi. Allora questo vaccino arriverà a tutti, perché cominciamo già a leggere le polemiche ci sono sempre per carità, però noi vogliamo essere oggi rassicurati da voi, rassicurati dal governo. Le polemiche ci sono sempre state dal primo giorno, non solo nel nostro paese e un po' ovunque. Il vaccino arriverà, è chiaro che arriveranno dosi scaglionate, nel senso che oggi siamo partiti con Pfizer perché è stato approvato dall'ente regolatorio europeo. Aspettiamo l'approvazione di un altro vaccino che si chiama Moderna e poi aspettiamo l'approvazione degli altri vaccini AstraZeneca e anche da altri. Quando saranno tutti approvati il numero di dosi sarà importante e anche superiore alla necessità della popolazione italiana. Però ora dobbiamo partire con le dosi che abbiamo. È chiaro che la non approvazione, e non è che non è stato approvato perché vi sono problemi, ma semplicemente perché richiede più tempo, delle altre case che producono... Beh, AstraZeneca ad esempio in Gran Bretagna... In Gran Bretagna sono partiti, così erano partiti in anticipo anche con Pfizer, quindi immagino che anche in Europa arriverà l'approvazione in tempi molto rapidi. Però finché non abbiamo quelle dosi dobbiamo utilizzare quelle che abbiamo. Però progressivamente nell'arco del primo semestre, verosimilmente tutti i vaccini, tutte le ditte saranno disponibili, che significa avere la possibilità di vaccinare tutta la popolazione italiana. Primo semestre, mi scusi, significa entro sei mesi? Significa entro sei mesi averli. Poi è chiaro che la vaccinazione andrà avanti per tutto il 2021. Chi deve essere protetto fin da subito? Ovviamente gli operatori sanitari. Abbiamo contato tantissimi morti fra medici, infermieri, farmacisti. Gli anziani, coloro che sono l'RSA, gli anziani e quindi poi progressivamente la vaccinazione procederà per tutto il resto della popolazione. Ma i primi che dobbiamo proteggere sono personale sanitario, tutto, e ovviamente i nostri anziani, che sono coloro che se si ammalano vanno più facilmente incontro a complicanze gravi e a morte. Un cittadino come sarà chiamato per essere vaccinato? E la domanda che mi fanno in tanti e alla quale personalmente io non so rispondere perché io stessa vorrei sapere in che modo questa sarà chiaramente la seconda fase, quando i vaccini saranno disponibili anche per la popolazione generale. Ovviamente vi sarà una rete territoriale, rete ospedaliera, rete territoriale, ovviamente vi saranno i medici di medicina generale coinvolti, i pediatri coinvolti, chiaramente attenzione perché ad oggi il vaccino viene fatto a colore, sono sopra i 16 anni di età, quindi sotto i 16 anni di età, ed è prevalentemente indicato fin da subito per gli anziani. Quindi vi saranno i medici di medicina generale, le strutture ospedaliere, c'è tutta la rete attualmente presente sul territorio che avvertirà e quindi darà la priorità valutando ovviamente non solo l'età ma anche quelle che sono le comorbidità e i fattori di rischio e quindi verrà creata una lista e si procederà alla vaccinazione che è doppia, perché le dosi che dovranno essere fatte sono doppie, si partirà con una prima dose e un richiamo tutta la popolazione. Per tutti i vaccini però? Perché si parla di questo della Pfizer è doppio, uno fa il vaccino dopo 21 giorni... Anche gli altri che sono in programmazione per essere messi, sì, al momento noi parliamo del Pfizer che è quello che è attualmente presente, si tratta di una vaccinazione, una dose e 21 giorni una seconda dose, quindi verranno chiamati per la prima e verranno chiamati anche per la seconda dose. Non è molto diverso dal calendario vaccinale che ognuno di noi fa per i propri figli, ti danno la scheda e ti dicono quando devi tornare, in questo caso però le dosi sono ravvicinate nel tempo. Ma gli altri vaccini che arriveranno, è vero che ce n'è qualcuno che basta una sola volta e non... e anche per quanto riguarda la conservazione non sarà più a meno 75 gradi che diventa problematico ma basterà meno 2 gradi. Allora sulla conservazione posso già darle risposta nel senso che tranne Pfizer che è a meno 75, Moderna che è a meno 20, gli altri vaccini sono sovrapponibili ai vaccini che normalmente facciamo anti-influenzali, quindi stanno a una temperatura diciamo del frigorifero normale, quindi possono anche diciamo essere trasportati con più facilità e sommetare più facilità. Per quanto invece riguarda le dosi dovremmo aspettare quello che l'ente regolatorio certificherà una volta visti i dati, perché attenzione sarei un folle oggi a pronunciarmi su un qualcosa che ancora non ha avuto l'ok. Quindi al momento parliamo di ciò che abbiamo. Ciò che abbiamo è Pfizer, è verosimilmente Moderna a breve. Poi parleremo anche degli altri vaccini e a quel punto sarà, capite bene, anche molto più facile la somministrazione perché noi abbiamo necessità di mantenere un vaccino a meno 75 gradi, significa che tu ti rifuori la scatola e devi immediatamente vaccinare le persone perché non puoi rimetterla nel frigorifero a meno 70 quella scatola. Avere poi invece un vaccino che si conserva tra i meno 4 gradi e di 0 i 4 gradi, capite che è un qualcosa che può essere fatto ovunque, anche all'interno delle farmacie, qualora vi sia diciamo il medico presente. Questa è la proposta. Questa è una proposta molto importante, cioè i farmacisti sono sempre stati al nostro fianco e la possibilità di fare dei vaccini, anche se via sperimentale oggi, consentirà poi in futuro di farla diventare comune pratica, perché vede la farmacia è ovunque, nel paesino smarrito del Lazio, in Campania. Tu lì a chi ti affidi? Al medico di medicina generale e alla farmacia che sono dei presidi del nostro servizio sanitario nazionale. E un farmacista? Lì ci sarà il medico, ovviamente una struttura. Però tanto per dirle, abbiamo ricevuto come ministro Speranza proprio all'inizio di questa settimana una lettera anche dagli odontoiatri, che sono tantissimi sul territorio nazionale e si sono offerti per partecipare in maniera attiva alla vaccinazione. Voglio dire, si tratta di una rete sul territorio molto molto diffusa. Lei immagini avere il dentista che ti aiuta nella vaccinazione significa poter raggiungere davvero chiunque, ovunque. Certo. Voglio mandare un filmato, perché è un tutorial che è stato mandato e secondo me è davvero molto interessante dal professor Giovanni Di Giacomo, che spiega in maniera molto semplice come deve essere fatto il vaccino e in quale punto della spalla. Vediamolo insieme. Il vaccino per il Covid viene inopulato nella spalla ed esattamente in una zona muscolare che si chiama il deltoide, che è un muscolo che ha proprio la forma di delta. Vedete quella striscia gialla che circola, ruota intorno all'omero? È un nervo importantissimo che si chiama nervo ascellare o circonflesso. Questo nervo porta la mobilità e la sensibilità alla spalla. Quindi il vaccino deve essere fatto al di sopra dei 4 centimetri, ancora meglio 3 centimetri, 2 centimetri sotto l'acromion, proprio per evitare un insulto meccanico e chimico al nervo circonflesso. Quindi sì vaccinarsi, ma nel modo giusto. Grazie professor Di Giacomo. Mi sembra... È mostrato una cosa molto semplice. Molto semplice. È indolore, a dire il vero, priva di grossi effetti collaterali. È chiaro che oggi, diciamo, si valuta, appena senti reazione allergica, si accendono ovviamente gli allarmi, ma sono le stesse complicanze che si osservano quando si fanno le vaccinazioni più... Finora non ci sono state delle reazioni, no? Ci sono state delle reazioni francamente minori. La maggior parte di coloro che hanno fatto il vaccino hanno un po' di fastidio, ovviamente dove viene fatta la puntura, ma insomma un po' di malessere generale, ma chiunque di noi ha fatto un vaccino anti-influenzale ogni anno ha avuto più o meno gli stessi sintomi. Attenzione, sono delle stupidaggini francamente. I giornali di oggi dicevano che noi siamo secondi in Europa dopo la Germania. Ora, anche qui è nata una polemica perché siamo in ritardo. Io non credo che stiamo in ritardo, o meglio non lo dico oggi, aspetto i prossimi giorni, perché nel periodo delle vacanze, a parte che sono stati fatti ugualmente i vaccini e i numeri, li vedete, crescono ogni giorno, ma poi c'è la registrazione, la trasmissione, ci sono le persone che sono in ferie che devono essere richiamate per fare il vaccino. Quindi io prima di dire attenzione siamo partiti male, aspetterei almeno una settimana di tempo. Cioè dopo l'epifania andiamo a vedere i dati. L'ideale è che noi consumiamo le dosi che ci arrivano. Cioè se ci arrivano 450 mila di dosi a settimana, 450 mila di dosi, di queste dosi, devono essere somministrate. Assolutamente. E attenzione, somministrazione non significa aver vaccinato una persona, perché la vaccinazione si completa alla seconda dose. Quindi quelle persone che hanno fatto il vaccino per dichiararsi completamente vaccinate e quindi esenti dal rischio di prendersi il virus o ammalarsi, prendersi o ammalarsi, perché anche qui un po' di differenza c'è, dovranno aspettare i 21 giorni. Quindi al momento sono state somministrate, 70-80 mila dosi ad oggi, saremo 100 mila questa sera, significa 100 mila dosi somministrate. Significa che queste 100 mila dovranno essere rifatte fra 21 giorni, quindi significa che per essere 100 mila persone servirà la seconda dose. Ci sarà poi un richiamo dopo 21 giorni e dopo una settimana si è immuni? Dopo alcuni giorni, solitamente sono 7, 10, 14 giorni, si è immuni. Ho letto sul giornale, medico, non so se un medico, una dottoressa o un dottore, ha fatto il vaccino, dopo 7 giorni ha sviluppato, diciamo, ha avuto il Covid. Attenzione, non c'entra nulla. Oppure si è contagiato in itinere. Attenzione, questo che viene iniettato non è virus, è un mRNA, quindi è, diciamo, una molecola che viene inserita all'interno. Quindi non puoi sviluppare il virus se ti inietti il vaccino, però puoi prendertelo nel periodo in cui sviluppi gli anticorpi. Siccome dopo la prima dose di immunità ancora non puoi averla completa, e soprattutto dopo 7 giorni non ha avuto nemmeno il tempo di produrre anticorpi, quindi è completamente non correlato. Cioè, purtroppo, un medico, un collega o una collega sfortunata che si è preso il coronavirus nel periodo in cui ha fatto il vaccino. Due giorni prima o due giorni dopo. Io questo non lo so, ma non ha nulla a che fare con la vaccinazione. Senta, Sileri, ma dopo aver fatto il vaccino e dopo questi 7 giorni, noi dovremmo tenere sempre la mascherina? Potremmo viaggiare? Potremmo ritornare alla vita di prima? Noi non potremmo prendere il virus, ma possiamo trasmetterlo? Allora, innanzitutto, ho fatto la vaccinazione, quindi anche... Le mie domande sono terra a terra. Sì, sì, sono le stesse domande che fa mia madre, voglio dire. Ecco. Quindi sono le domande che ogni... Quanti anni ha sua mamma? Mia mamma... No, ecco, adesso... Allora, l'altra volta ho fatto la figuraccia sugli anni. Prima arriva il commissario che mi dice... No, mia mamma è del 48. Eh, sono più piccola io. Sì, ma non è... Quando lo farà il vaccino sua mamma? Quando sarà il suo turno. Tipo? Non ha comorbidità, quindi sarà fra i penultimi, perché l'ultimo sarò io che ha 48 anni, lei sarà fra i penultimi, non lo so. Mia madre non ha grosse comorbidità, sta bene, ha solo 72 anni. Ho recuperato. Ha solo 72 anni. Eh, mia madre ha solo 72 anni, quindi, diciamo, prima si parla a coloro che sono un po' più avanti con gli anni, con problemi. Ho recuperato, sì. No, hai recuperato bene, complimenti. Allora, tornando alla mascherina, sarà necessario continuare a mantenerla così come è la distanza. Come adesso? Sicuramente il vaccino protegge dalla malattia. Quindi, i sintomi gravi, il vaccino ti protegge. È meno chiaro, ma questo lo scopriremo nel tempo, col tempo si protegge dalla trasmissibilità. Cioè, io ho fatto il vaccino, trasmetto il virus, in caso che io, diciamo, lo incontri. Questo ancora non è chiaro, verosimilmente più no che sì, ma poco importa se tutta la popolazione fa il vaccino, perché la vaccinazione mira una protezione di gregge, cioè a far sì che il virus non trovi più ospiti nel quale replicarsi. Mentre invece una domanda più importante è cosa farò il prossimo anno. Ho fatto la vaccinazione nel 2021, sono stato protetto per il 2021, il virus continua a circolare nel 2022, dovrò rifare il vaccino? Su questa domanda probabilmente è possibile che uno debba fare dei richiami nel tempo, così come il sottoscritto che ha avuto, diciamo, il virus, l'ho avuto nel mese di marzo, farò il vaccino per ultimo, verosimilmente, e significa che devo fare un richiamo, perché avendo avuto il virus dovrei avere un'immunità. Ma lei ha ancora gli anticorpi, no? Allora, probabilmente non ho più gli anticorpi, devo dire la verità, non li ho più dosati, perché anche dosarli non mi cambia la vita, nel senso che anche se io mi doso e scopro di avere gli anticorpi, la mascherina continua a tenerla e la distanza continua a mantenerla. Quindi, francamente, sapere o non sapere di avere gli anticorpi non cambia la mia attitudine con il resto del mondo di quello che faccio. Però sarà importante fare i richiami nel tempo e questo però lo scopriremo in itinere. Intanto, limitiamo nella diffusione. Più gente si vaccina quando avremo tutti i vaccini, meno questo virus troverà ospiti per replicarsi, quindi la nostra sarà una vittoria più importante con la vaccina. Certo. Cosa vogliamo dire di chi non crede nel vaccino? E abbiamo visto che ci sono un bel numero, addirittura anche sanitari. Allora, ai colleghi... Colleghi, potrà essere obbligatorio? Allora, al momento, come ho già detto prima, l'obbligatorietà non è necessaria perché il numero di dosi che abbiamo non è tale da, diciamo, da dover ricorrere all'obbligatorietà. Cioè, se tu dici di no, c'è qualcun altro che lo fa. Il numero di dosi ancora non è, diciamo, è limitato. Quindi, quando avremo più dosi, allora lì dovremo monitorare ciò che accade nella popolazione e far sì che non si ripeta ciò che avviene col vaccino anti-influenzale. Solo il 15% della popolazione lo fa e solo il 55% over 65%. Quindi è chiaro che se poi, dopo due o tre mesi di campagna, a patto che tu abbia i vaccini per tutti, vedi che la vaccinazione non va avanti, qualcosa deve essere fatto. Per quanto riguarda i sanitari che non credono al vaccino, lì sono stato già molto duro su questo. Io credo che se un medico che ha preso una laurea, ha preso una specializzazione, non crede a ciò che viene somministrato e a tutto ciò che vi è dietro, quindi ricerca, controllo e quant'altro, secondo me ha sbagliato lavoro, per come la vedo io, nel senso che da medico non posso pensare che ci sia qualcuno che è Novavax. Poi ci sono gli scettici, quindi nella popolazione generale, ed è giusto. Lo scetticismo sarà nostra premura ed è il nostro compito spiegare la bontà del... Prima di mettere un obbligo, prima di forzare, spiegare, perché più si spiega, più è probabile che si capisca. Poi c'è una parte che più che scettici, diciamo, sono Novavax, se persone che pensano che, non so, inietti un microchip o una qualunque cosa, allora lì... È un'altra cosa. È un'altra cosa. Io posso portare il mio esempio. Io non avevo mai fatto vaccini nella mia vita. Quest'anno poi io ho fatto il vaccino contro l'influenza, perché ovviamente, data la situazione che stiamo vivendo, e le confesso anche con un po' di paura, perché sono una che difficilmente prende farmaci, insomma, sono fatta... Io l'ho fatto, devo dire che il professor Lefoche mi ha convinto a farlo, e sono stata finora, faccio le corna, cioè benissimo, non ho avuto nessun tipo di reazione, anzi, io dopo un quarto d'ora ho detto, vabbè, tutto qua, io mi auguro che anche il vaccino contro il Covid possa essere per tutti così. Lei ha detto, diciamo, una cosa importantissima, ognuno di noi ha paura quando deve fare una terapia, anche se prendi un antibiotico, perché dice, Dio avrò la reazione allergica, se poi devi fare una procedura più invasiva, poi qualcosa di nuovo è chiaro che mette paura. È la premura che mette il Servizio Sanitario Nazionale con le sue donne, i suoi uomini, a spiegare il perché deve essere fatto. Lì cambia tantissimo, io lo dico, per mia esperienza, quando, diciamo, avevo pazienti che nella mia precedente vita che tornerò a fare, con un tumore spiegare che devi togliere il tumore, che forse devi mettere la sacchetta, che forse devi fare la chemioterapia, che forse devi fare la radioterapia, mette paura, Ma se tu lo spieghi, e lo spieghi tantissimo e spesso, perdi più tempo a spiegare, spendi più tempo a spiegare quello che dovrà fare che a farlo. Cioè, l'intervento di chirurgico ti può durare anche meno del tempo che hai impiegato a spiegare queste cose. Bene, la stessa cosa dobbiamo farla con le vaccinazioni. Assolutamente sì. Prima di arrivare a un obbligo, che potrebbe essere necessario, io questo non lo nego, perché se la popolazione non dovesse vaccinarsi, dovessimo stare sotto il 50%, una soluzione andrà trovata in qualche maniera. Però prima di arrivare a questo, spieghiamo, non stanchiamoci mai di spiegare il perché delle cose. Perché se tu spieghi il perché delle cose, le persone davanti a te lo capiscono, non devono nemmeno accettarlo, viene naturale. E spiegare la prima cosa, se ti vaccini, non lo fai solo per te stesso. Lo fai per gli altri. Per la comunità. E quindi per la comunità. Allora torniamo al Presidente della Repubblica, che ha parlato del senso di comunità nella prima parte del suo discorso. Bene, quel senso di comunità durante la prima fase del Covid, forse l'abbiamo un po' smarrito nella seconda e nella terza fase. Riprendiamolo. Perché le cose si risolvono insieme, sempre e comunque insieme. Questo è fondamentale. Io sono d'accordissimo con lei. Parlarne. E vede anche questo programma che è così pop, diciamo. E secondo me è interessante avere questi spazi dove possiamo parlare. In fondo stiamo parlando come se fossimo io e lei o a casa mia o a casa sua. Con grande semplicità. Ed è proprio giusto parlarne così, come stiamo facendo noi. Perché il pubblico deve capire. Deve capire l'importanza. Io ho un pezzettino del discorso del nostro presidente Mattarella e vorrei mandarlo. Cari concittadini e cari concittadini, la scienza ci offre l'arma più forte, prevalendo su ignoranze e pregiudizi. Ora a tutti e ovunque, senza distinzioni, dovrà essere consentito di vaccinarsi gratuitamente, perché è giusto e perché è necessario per la sicurezza comune. vaccinarsi è una scelta di responsabilità. Io mi vaccinerò appena possibile dopo le categorie che essendo a rischio maggiore debbono avere la precedenza. Il vaccino e le iniziative dell'Unione Europea sono due vettori decisivi per la nostra rinascita. Ha prevalso l'Europa dei valori comuni e dei cittadini. Sarà un anno di lavoro intenso. Abbiamo le risorse per farcela. Auguri di buon anno a tutti voi. E noi facciamo gli auguri al nostro Presidente. Buon anno Presidente. Belle parole. Mi è piaciuto questo discorso perché è arrivato proprio al cuore delle persone. Vogliamo dire qualcos'altro prima di chiudere, Ministro? Intanto noi ci rivedremo perché sono sempre molto felice di averla ospite qua. Abbiamo detto tutto? Beh, ci aspettano ancora delle settimane difficili perché il virus continua a circolare. Abbiamo quasi 17 di percentuale. È molto alto. Ci sono delle varianti, vedi la variante inglese che ovviamente contagia di più, non sembra più mortale per cattiveria ma è chiaro che se contagia di più rischi di fare più morti perché più persone sono infetti. Dobbiamo resistere, dobbiamo però anche guardare avanti. Dobbiamo incominciare anche a pensare di riaprire qualcosa. La vaccinazione è il mezzo per la normalità ma nel mentre dobbiamo riappropriarci della nostra vita con moderazione magari facendo alcuni passi avanti e poi se necessario un passo indietro senza criticarlo quel passo indietro. L'altra cosa serve moderazione in tutto, serve coesione. Le critiche sono importanti quando costruttive. Anch'io do delle critiche a volte mi arrabbio anche ma lo faccio sempre con intento costruttivo. Non è il momento delle divisioni. Dividerci ora significa rischiare troppo. Non è il momento opportuno per farlo. I problemi ci sono, abbiamo imparato a conoscerli, dobbiamo anche imparare a risolverli perché la struttura non sempre ti consente di risolverli ma lo faremo con vigore. Almeno personalmente lo farò con vigore e chi mi conosce lo sa. Però non è il momento delle divisioni. E si ringhe tutto a posto perché ho letto si ringhe un po' di... È tutto a posto. L'unica mia preoccupazione e lo dico con sincerità è vedere quanto prima l'approvazione per gli altri vaccini a patto che siano sicuri ed efficaci e questo credo che sia così perché se l'Inghilterra già li ha autorizzati significa che vi è bontà nel tipo di vaccino quanto prima perché questo risolverà moltissimi dei nostri problemi anche economici perché si potrà ripartire. È giusto che il fermo è dovuto più che altro a dei fattori burocratici più che altro? Perché come ha detto lei se no la Gran Bretagna non dovrebbe... Sicuramente la burocrazia non aiuta però diciamo l'ente regolatorio europeo ha una rigidità importante che è anche garanzia. Quindi attenzione burocrazia in quel caso significa rigidità significa garanzia. L'Inghilterra lo fa in maniera sperimentale come ha fatto per il Pfizer però guardiamo il positivo in ciò che ha fatto l'Inghilterra. Il fatto che sia stato approvato significa che i risultati ci sono e che quindi a breve però non so quanto sarà questo breve spero poche settimane la stessa cosa potrebbe accadere anche in tutto il resto dell'Europa. Quindi guardiamo diciamo con positività ciò che ha fatto l'Inghilterra perché ciò che ha fatto probabilmente accadrà anche da noi a breve e saremo in grado di partire con più dosi. E a quel punto sotto a chi tocca con le vaccinazioni abbiamo già una tabella di marcia si accelera e si va si accelera si va sette giorni su sette anzi non esistono più i sabati e le domeniche d'altro canto se il sabato e la domenica non puoi manco andare al ristorante tanto vale fare le vaccinazioni facciamo i vaccini a una ragazza della mia età quando quando sarò chiamata mi devo proporre no no sarà chiamata diciamo che lei recupero lei è troppo giovane per farlo in tempi rapili quindi diciamo si parte con persone più anziane ecco vabbè buon lavoro ministro buon lavoro e ci vediamo presto qua a domenica grazie mille grazie ministro grazie a tutti